Oggi celebriamo la memoria del martirio di San Giovanni Battista e ascoltiamo dal Vangelo di Marco il racconto della morte di questo grande testimone. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva a Giovanni, sapendo l'uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacqua Erode ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò, e le girò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, forse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista. E subito entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo, voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni saputo il fatto vennero, le presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Giovanni è la voce che annuncia Gesù, è la voce che proclama la verità, è il testimone che vive nel deserto, che non accetta la comodità della reggia, che veste pelli di cammello, è dunque un uomo forte che ha il coraggio della verità anche nei confronti di Erode e a lui denuncia il peccato, il peccato di adulterio. Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello e lo denuncia nonostante il fatto che Erode lo avesse messo in prigione. È da tempo in prigione Erode, Giovanni il Battista, ma non cede di fronte al re Erode. Denuncia dall'adulterio, oggi noi diremo ma se due adulti sono d'accordo, se fanno un'azione che non comporta violenza, che male c'è, invece nella infedeltà, nel venire meno al patto di amore, Giovanni il Battista vede la radice di ogni peccato della Bibbia stessa, l'adulterio è visto come il segno dell'allontanamento di Dio perché descrive l'incapacità di fedeltà, di mantenere fede all'amore dato. Questo peccato viene annunciato, viene denunciato e si dice che Erode temeva Giovanni, sapeva che era un uomo giusto, santo, nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri ed è il pericolo che Gesù stesso ha denunciato altre volte e cioè di limitarsi a ascoltare ma non portare la parola ascoltata alla vita così che il seme della parola caduto nel campo non porta nessun frutto perché è soffocato dai propri peccati, dalle proprie passioni. Così Erode ascoltava, ascoltava perplesso ma non ha il coraggio di trarre le conseguenze dell'ascolto, un ascolto che non feconda la vita. Dall'adulterio, da quel peccato che Giovanni il Battista condanna, nasce in realtà tutta una serie di comportamenti errati che culmineranno con la uccisione di Giovanni Battista. Innanzitutto c'è l'odio di Erodiade che vuole far uccidere il Battista, c'è l'odio di fronte al rimprovero e questo odio per un momento viene come contenuto da Erode, però questo peccato di fedeltà pone Erode in una situazione di indecisione, non sa prendere una decisione, non sa liberare il Battista che li conosce giusto e quando viene il giorno propizio, stranamente il giorno propizio della morte del Battista è il giorno del compleanno, del ricordo della vita di Erode. Ecco nel giorno propizio proprio le premesse poste dal peccato germogliano, la figlia di Erodiade danza e piacque a Erode e ai commensali, in fondo è una festa dove si esagera, dove si cade nella lussuria, nella sensualità che in fondo è sempre frutto della infedeltà ed ecco che questa situazione porta Erode a una frase tremenda quando dice chiedimi quello che vuoi, io te lo darò e leggerò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, forse anche la metà del mio regno, perché qui allora germoglia e viene a compimento i frutti del peccato e cioè la ragazza istigata da Erodiade chiede la testa di Giovanni e tutta la scena finisce con questa testa sul vassoio portata come trofeo. Questo è il mondo che produce violenza, un mondo dove c'è infedeltà, dove c'è rancore, dove c'è indecisione, dove c'è insensualità e alla fine c'è violenza. Questo è il mondo che è descritto dal racconto e dal mondo che si staglia nella realtà quando non c'è l'onestà di riconoscere la propria debolezza e non c'è l'onestà dell'ascolto della parola e questa scena finale che vede l'uccisione del Battista mostra ancora una volta come il capo, quello che pensa di avere il potere proprio a motivo del suo peccato e schiavo, finisce di fare quello che non vuole, decide ciò che non vuole fare, fa ciò che non vuole fare. Sarà la stessa sorte anche di Pilato che sa benissimo che Gesù è innocente eppure alla fine fa quello che non vuole fare, cioè lo condanna. Questa è la sorte dei potenti che sono soggiogati dal peccato. In fondo il peccato è proprio ciò che ci conduce a fare quello che non vorremmo fare. E il martire e il Giovanni Battista tutto è assurdo? In realtà tutti dobbiamo morire, ma mentre chi cerca di salvare la propria vita incontra la morte come la fine, come un lado che gli porta via tutto, il martire che si è affidato a Dio e che dona la vita per Dio vive la morte come il fine della sua vita e cioè come la festa di incontro con Gesù, la festa di nozze che è preparata, il banchetto che lo porta alla vita. Erode stesso poi avrà l'idea e temerà quando sentirà parlare di Gesù che sia Giovanni risorto dai morti e sappiamo che la risurrezione ha aspettato come premio Gesù il Battista. Questo dunque è la sorte del Battista in questo banchetto preparato da Erode. È interessante notare che subito dopo verrà descritto nel Vangelo di Marco il banchetto che Gesù istituisce per i suoi discepoli quando dona il pane. Lì non c'è la violenza ma c'è il pane, cioè la sua vita donata, è il cibo e il banchetto che genera vita. Chiediamo al Signore nell'ascolto di questa parola di non essere come Erode, ascoltatori che restano perplessi, che ascoltano anche volentieri ma che poi non traducono in pratica quello che il Signore vuole far capire attraverso la sua parola. Buona giornata.